Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, come state? Spero tutto bene. Allora, sono felicissima di registrare questo video perché mi ha contattato un'azienda, un'azienda comunque molto importante e sono molto contenta perché comunque ho visto che questa azienda dà anche l'opportunità a canali piccoli, perché comunque il mio è un canale piccolo minuscolo in confronto a tanti colossi e comunque dà la possibilità di aiutare o comunque di mandare prodotti da provare anche appunto a noi piccole realtà insomma. Allora, questo prodotto in realtà io l'avevo già acquistato un paio di mesi fa, a luglio, se non erro, giugno o luglio comunque e mi ha contattato appunto l'altra settimana l'azienda dicendomi guarda avremo piacere di farti provare questi prodotti se tu sei d'accordo e ovviamente non potevo dire di no anche perché è un prodotto che comunque conosco e appunto quindi ho accettato immediatamente. Parliamo di Wild, per chi non lo conoscesse è un brand di... è un brand naturale che crea deodoranti, adesso hanno ampliato la loro linea con il bagno doccia ricaricabile. Comunque è un'azienda che produce deodoranti naturali senza alluminio, senza sali d'alluminio appunto, senza silicone, senza parabeni, tutte le formulazioni, cosa che non sapevo, credevo solo alcune, sono vegane, quindi tutte le loro formulazioni sono vegane e soprattutto sono cruelty free. È un'azienda appunto che cerca, sta cercando appunto di ridurre l'utilizzo di plastica, il consumo eccessivo di materiale plastico e appunto niente, adesso vi mostro il prodottino che mi hanno mandato. Io avevo già l'altro contenitore, questo è quello che mi hanno mandato loro, bellissimo, comunque è una limited edition, se non erro estiva e comunque è super 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 carino, è una confezione in alluminio e appunto è ricaricabile, quindi voi acquistate una sola volta il contenitore e poi basta che acquistate solo le ricariche. Io avevo quello dedicato alla sirenetta, infatti l'avevo acquistato come vi ho detto mesi fa, soltanto perché qualcuno si è innamorato di quel contenitore e ho dovuto regalarlo, ho detto vabbè dai al massimo poi lo ricomprerò e comunque era bellissimo, a parte la confezione della sirenetta era veramente veramente stupenda, costava tipo 2 euro in più, quindi niente, peccato che non posso farvi vedere quell'altra ma la trovate comunque sul canale perché vi avevo registrato anche il video. Comunque questa è la confezione, qui abbiamo la scritta wild, il pack comunque può essere anche personalizzato, loro hanno moltissimi colori, tra cui un rose gold stupendo, poi hanno il nero, hanno il verde menta, hanno due o tre limited edition, comunque ne hanno veramente parecchi, sia adatti per femmine che maschi, insomma sono unisex, anche le colorazioni ci vanno bene per tutti e niente, sono personalizzabili anche col proprio nome, qui rimane sempre la scritta del brand e dietro adesso qua non ce l'ho personalizzato, però comunque potete scrivere il vostro nome, una parola, delle lettere, insomma quello che più vi piace, però comunque è personalizzabile. Allora, molto molto leggero comunque, qui abbiamo il tappino che si leva in questo modo ma comunque è ben ben saldo ma lo stesso, riuscite a rimuoverlo senza troppa fatica. All'interno è fatto così, questo è il posto appunto per mettere la ricarica, voi dopo come un classico deodorante in stick andate a girare qua sotto, vedete, girate girate e mano a mano sale, adesso non si nota tantissimo, però comunque mano a mano va a salire e vi porto a suo appunto la ricarica di deodorante. Ora lo vado a girare, comunque anche è facilissimo da pulire con un po' di cotone, un po' di carta, riuscite a pulirlo bene ed è da per fatto comunque anche per il fatto di igiene. Per cambiare la ricarica o comunque mettere la ricarica nuova, qui ci sono dei pulsantini, abbiamo questo qui sempre con la scritta wild, sia da un lato che dall'altro, voi basta che li premiate insomma e ovviamente deve essere giù completamente la ricarica perché sennò rimangono un po' duri. Premete qui ai lati, diventa super morbido e vedete, tirate in su da una parte e in giù dall'altra e qui lo posso. È semplicissimo, veramente semplice, come vi posso far vedere. È proprio leggero, leggero, leggero e molto facile da cambiare. Qui abbiamo appunto il ripiano per mettere la ricarica. Allora, io vi mostro le due ricariche che mi hanno mandato, tra cui una è la mia preferita e la adoro, infatti ce l'ho anche qui perché la utilizzo così da quando ho dovuto regalare il dispenser, la ricarica l'ho tenuta e comunque la utilizzo così. Semplicemente premo su col lito e poi faccio uscire la ricarica. La mia preferita in assoluto appunto è questa qui che mi hanno mandato anche loro, ovvero fresh cotton and sea salt, vegan friendly, aluminium free. Comunque c'è scritto anche qui, ma questa vi giuro è la mia preferita, ha un profumo di sale marino, comunque un fresco profumo buonissimo e soprattutto vi rimane. Comunque tutti i loro pack sono questi qui, non è cartone, ma comunque è bambù, è bambù riciclato. È una linea dedicata per pelli normali e pelli delicate, sensibili. Il PAO è di 12 mesi, comunque trovate tutte le informazioni con la lista degli ingredienti, insomma, l'inci dietro ad ogni ricarica. Ed è semplicissimo perché non c'è plastica. Come potete vedere, togliete la cartina e questa è la ricarica di per sé, quindi sempre con il logo del brand. Sono 40 grammi di prodotto, è appunto da durante refill e dietro abbiamo la scritta vegana, il PAO, il sito del brand, il lotto che comunque è made in Holland, quindi made in Olanda. Abbiamo comunque tutti i dati anche nel pack, cosa comunque che trovo comodissima. Questa è una delle ricariche. Hanno, vi ho fatto vedere comunque davanti com'è fatta. Lo si volevo fatta vedere nell'altro video, però è giusto farla vedere anche qui. E poi mi hanno inviato questa qui, che è coconut and vanilla, anche questa 12 mesi di PAO, vegana. Questa qui ha una profumazione molto estiva, molto molto estiva, però sa realmente di cocco. In giro io comunque ho trovato veramente pochissime profumazioni al cocco, parlo anche di saponi, di bagno doccia di creme, che sanno pochissimo di cocco, ma quel cocco naturale non si trovano. Si trova solo cocco chimico, comunque un po' misto. Questa qui, vi giuro, sa tantissimo di cocco fresco, cocco secco, cocco essiccato, quello in polvere per fare i dolci. Sa proprio di cocco, di cocco, vi giuro sa di cocco tantissimo. Poi c'è quella nota leggera di vaniglia, non fastidiosa per niente, molto molto buona, però appunto la reputo una fragranza estiva verso, diciamo, l'autunno, comunque estiva, ottunnale. Estiva, estiva al massimo, proprio il fresh cotton and sea salt, perché è qualcosa di fantastico, però lo sto usando anche adesso, periodo ottunnale, comunque andiamo verso l'inverno. Vabbè, siamo appena entrati nell'autunno, però comunque penso già all'inverno. ma è proprio fresca, ma un fresco delicato e quindi va bene per tutte le stagioni. Cocco e notte vanilla, appunto, io lo trovo fine estate, un po' inizio autunno, perché sa di cocco ma anche quella nota un po' dolcina della vaniglia, che va benissimo per il periodo un po' più freddo. Comunque molto buona. Non posso darvi una recensione di questa, perché comunque non l'ho ancora provata. Però vi posso garantire in assoluto che la qualità è pazzesca. Hanno questa formulazione in stick, se avete presente il Dodorante Dav, che è uno dei miei preferiti appunto, non ce l'ho qui, se no ve lo mostravo. Ha la stessa consistenza, ma più cremosa. Sempre appunto in stick, provo a prendervi da questo, ma ha comunque non si nota, ma questa consistenza più cremosa, che non fa strato, non appiccica, cioè non la sentite dopo. Però vi lascia un profumo sensazionale. Quando vado appunto a camminare o comunque la uso a lavoro, muovo un attimo le braccia così e mi viene subito questo profumo, che è fantastico. Poi hanno tantissime profumazioni, ve lo ripeto, sul sito ne trovate parecchie, insomma tutte quelle che hanno, e sono veramente tante, per un Dodorante, perché comunque diciamo io sono abituata ai Dodoranti della Dav, che hanno le solite tre profumazioni. Quindi il classico, parlo di quelli in stick, il profumo classico, il profumo al cetriolo e quello alla pera. Sono buonissimi, però comunque sono sempre quei tre. Anche altri Dodoranti, più o meno si gira l'odore talcato, l'odore un po' fruttato, un po' fiorito, ma comunque sono sempre quei tre, quattro, quelle tre, quattro varianti. Mentre qui ce ne sono veramente tante, profumazioni che comunque non ho mai sentito in altri Dodoranti, sono sincera, ne ho provati veramente tanti, spray, rolloni, stick, in crema, ne ho provati veramente uno squinterno e non ho trovato profumazioni così buone, così valide e soprattutto che rimangono e che non diano fastidio alla pelle. Perché comunque queste ricariche, io fate conto, non so dirvi il tempo effettivo di una ricarica, la durata effettiva, perché alterno, ho sempre alternato, però adesso appunto cercherò di farvi una recensione più approfondita, così vi dico la durata, insomma, poi varia anche da persona a persona, da quanto ne applicate, quante volte al giorno lo riapplicate, eccetera, eccetera. Però comunque vi devo dire che non ho trovato nessun Dodorante con questa consistenza, queste profumazioni, cioè non ho trovato veramente nessuno. Poi vi dico, ci tenete appunto all'ambiente, ci tenete alla vostra pelle a non usare Dodoranti in sali d'alluminio, con siliconi, con parabeni, usare prodotti cruelty free, vegani, questa è proprio la risposta per voi, è la scelta giusta, potete appunto prenderlo per voi, potete fare un regalo ai vostri figli, compagni, mariti, infatti lo farò usare anche al mio compagno, questo qui perché le profumazioni gli piacciono davvero tanto, anche quelle altre che avevo preso tipo il gelsomino, magnoli e gelsomino dovrebbe essere, però non mi ricordo bene, ho anche quella al muschio forse, non mi ricordo, comunque era una rosa e una verde, e per me comunque, che lo sto già provando da mesi, è super valido. Io non ho una sudorazione eccessiva, lo dico, però comunque sudo, non è che non sudo, sudo e estate, inverno, sudo, non ho quell'odore comunque forte, perché comunque per l'odorante deve andare a coprire diciamo l'odore, questi non vanno a coprire, non vanno a bloccare la sudorazione, ma vanno comunque a tenere la zona idratata e bloccano la proliferazione dei batteri che poi causano l'odore cattivo, quindi non è che non ti fanno sudare, sudi, ma comunque non emetti cattivo odore, che è completamente diverso dal bloccare la sudorazione, sono comunque traspiranti. Cosa importante perché, scusate la luce, cosa importante perché comunque le nostre scelle, sì ok, devono sudare, ma non è di per sé il sudore, nel senso la sudorazione che porta al cattivo odore, sono i batteri presenti che poi proliferando appunto vanno a causare questi odori sgradevoli. E appunto a me dura, come vi dico ne ho provati tanti di odoranti in spray, in stick, roll on, l'unico con cui lo posso mettere a paracone è il DAV e appunto per me è un valido odorante perché è naturale, che ne ho provati anche tanti naturali e vi giuro non durano, non tengono la sudorazione, hanno delle formulazioni strane, un po' appiccicose, troppo secche o quelle gelatinose, vi giuro le ho provate di tutti i marchi ma non mi sono mai trovata bene, poi sono sempre ritornata al DAV a comunque usare prodotti più commerciali e quando ho visto su YouTube appunto questo prodotto ho detto vabbè sai cosa, buttiamoci, proviamo e niente alla fine sono strafelice perché l'azienda mi ha contattato e comunque potete vedere che io questo prodotto, vi ripeto, l'ho già acquistato quindi non è una sponsorizzazione così anche perché non è un video sponsorizzato, di per sé loro non mi hanno neanche detto guarda fa il video, recensisci i nostri prodotti, non mi hanno proprio detto niente, mi hanno solo lasciato un codice sconto, non affigliato che è Angie, poi ve lo lascio scritto giù nell'info box e nel primo commento, fallido fino al 30 di dicembre, 2023 appunto di quest'anno, del 20% su tutto, cioè il 20% ragazzi è tantissimo, è tantissimo come scontistica su questo prodotto che di per sé non è un prodotto a high cost, non costa l'era di Dio veramente, cioè la ricarica comunque, il dispenser, lo acquistate solo una volta, poi ci sono le ricariche che potete prendere anche tipo l'offerta con il dispenser, tre ricariche, oppure dopo prendete solo le tre ricariche o tutte di una profumazione, potete provare più profumazioni, ci sono dei kit e comunque il 20% su tutto è tantissimo, è veramente tantissimo, soprattutto per me, perché sono felicissima di darvi questa scontistica, se l'avessi trovata l'avrei usata anch'io all'acquisto vecchio e valida appunto fino al 30 di dicembre, Angie, quindi semplicissimo, e niente, sono veramente felice, ringrazio ancora tantissimo l'azienda Wild per avermi dato questa possibilità, per avermi dato questo codice sconto da poter dare a voi, cosa che ovviamente utilizzerò anche io, sconto che utilizzerò anche io, perché appunto o comprerò un altro di questi, il mio compagno, se si troverà bene, e poi altre ricariche, ma soprattutto voglio provare il bagno doccia, quello nuovo, appena uscito, proprio uscito due giorni fa, credo, e non vedo l'ora, comunque niente, credo di avervi detto tutto, sto guardando, sì, ah, vi mostro il pacchettino che arriva, anche la confezione è semplicissima, nel senso, se riesco a chiuderla, è veramente piccolissima, allora vi mostro questo lato, appunto, con la scritta Wild, metto qua la mano perché ci sono i miei dati, comunque vedete, qui abbiamo le scritte, però è una scatolina veramente piccola, veramente piccola, 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 all'interno ci sta tutto, perché ovviamente ci sta tutto, e ve la mostro, ah, io l'ho aperta da qua, ecco perché infatti dicevo, perché l'ho aperta da qui? E semplicemente voi tagliate qua sotto, si apre come una scatolina normale, dentro avete tutte le indicazioni, adesso ve la apro così ve la mostro, ok, ci ho messo un po', l'ho un po' rovinata, però vabbè comunque, è una scatolina fatta così, dentro avete tutte le indicazioni, appunto, su come utilizzare, o come cambiare la ricarica del dedorante, come potete vedere, comunque girate, premete i bottoncini e rimettete la ricarica, adesso vi mostro, infatti, che mi stavo dimenticando, girate e poi ho posto, cioè, veramente semplicissimo, comunque, una scatolina piccolissima, qui avete il loro profilo social, e per me comunque anche il pack è essenziale, perché non c'è plastica, non c'è un imballaggio troppo grosso, non siete a casa, ve lo mettono nella cassettina della posta, come fanno sempre con me, è una cosa comodissima, adesso però vi mostro, appunto, come ricaricarlo, perché mi sono proprio scordata, appunto, allora, semplicemente, andate a rimuovere qui, vedete qua sotto che ha questo spazio, apposta per questo, lo andate, vedete, a incastrare, fate un po' di pressione, comunque è super super semplice, rimettete qua il pack, premete un po' giù, e voilà, vedete, c'è il deodorante, poi girate, ho solo giro così, ve lo mostro, vedete, super super semplice, vedete, semplicissimo, poi girate, e va giù, c'è un deodorante come tutti gli altri, chiudete, e voilà, avete il vostro deodorante naturale, ecologico, vegano, cruelty free, con delle profumazioni pazzesche, cosa volete di più della vita? Più un 20% di sconto su tutto il catalogo, che ragazze, dovere e ragazzi, dovete andare subito, cioè, subito, non perché il codice sconto è mio, ma perché il 20% per me è comunque tantissimo, su un prodotto che di per sé non costa parecchio, perché non ci sono deodoranti naturali che costano veramente anche il doppio e il triplo, cioè il 20%, ragazze, ma dovete correre fino al 30 dicembre, avete appunto questa percentuale di sconto e andate proprio ad occhi chiusi, soprattutto se volete provarlo, è un'ottima occasione pagarlo anche di meno, e se vi trovate già bene, prendetevi altre ricariche, fate altri regali, adesso comunque per Natale, adesso siamo a settembre, insomma, arriverà Natale tra un paio di mesi, avete già il regalo perfetto da fare alle persone per portarle su una strada più eco green, più pulita, più sostenibile, questo qui. Niente ragazzi, io vi mando un grosso bacione, grazie per aver guardato questo video, spero che appunto vi sia piaciuto, se volete altre spiegazioni, volete altre informazioni, iscrivetevi pure, cercherò di rispondervi nei commenti il prima possibile, io ringrazio ancora Wild per questa opportunità, e niente, noi ci vediamo alla prossima, ciao!